Che dignità, dignità? Ma quali dignità? Dignità! Allora, vediamo un po' sta gente. Pizza Soul, Mr. Carusanza con Taric, M'Bare, mamma mia! La tag, il club M'Bare, te la fa capire proprio. C'abbiamo Pizza Soul e Mr. Carusanza. Attenzione, Terronia incoming, Taratella Dosset, anche se M'Bare non è Napoli. Raga, M'Bare è tutto fuorché Napoletano, M'Bare è un po' più giù. Un po' più giù, M'Bare, mamma mia! Pizza Soul, sono bot pre-made queste, è la botland della Terronia questa, M'Bare è Puglia. Anche, non è anche Sicilia, Sicilia eh. In Puglia come si dice? M'Bare, in Cumpà, queste cose qua. M'Bare è Calabria, ma si ma sotto... Raga, ma siamo lì, Calabria, Sicilia, siamo lì, insomma. Siamo lì. Cumpà. Vai. Perché ogni volta si sposta su questa cosa qua? Non capisco. Non capisco, mi dà fastidio sta cosa qua. Ok. Ho un pelo fissato. Non lo so, raga, che cazzo succede ogni tanto. Ogni tanto così prende e via. Allora. Crafting Potion. Ruining Mid and the Gate. Regà, gli ho rovinato la Mid. Vabbè, niente. Siamo partiti, raga. Ok, report. Ho rovinato il game. Ragazzi, ho rovinato la Mid. Ma perché? Vabbè, non ho rovinato la Mid. Che cattivea, ma... Scusate, ma se per sbaglio mi fossi... Ho rovinato la Mid, nel dubbio. Vabbè. Worth. Trasblood l'ho fatto io. Allora, potrei giocarmela meglio. Forse l'avrei potuto doggiare qualcosa di flash, ma sti cazzi, in realtà. Sarà una bella sfida qua in top. Quanto cooldown hai letta al tempo? Mica lo so io. Ma chi cazzo l'ha mai usato? Cooldown 6 secondi, ok. Beh, raga, vincere il game da solo con Maokai full AD sarà hard, eh. Non sopravvalutatemi. So che sono bravo. Però, vincere il game da solo con un Maokai AD... Rip. Non è molto chiaro come stiano focussando sti minion qua. Rip carretto. Eh, vabbè. Maokai può permettersi di perdere il carretto. C'ho troppi minion. Riven puoi gentilmente attaccarli? Riven non li attacca. Quello contro è il dog. È lui. È lui, è lui, raga. Ok. Niente, Riven... Diciamo se la prende molto comoda nelle retrovie. Via. Se sta andando davvero? Ok, sembrerebbe di sì. Mettiamo una bella ward qua. Abbiamo una pigna lì. Ok. Mo' aspettiamo. È il dog, è il dog. È lui. Lo vedo, lo percepisco. Lo sento. Mi serve ancora un po' di addi. Sono debole adesso. Ok. Perché ho attivato il let al tempo? Non ho mica tirato 8 attacchi. Pariò. Boh, vabbè. Gigi, farmati. Farmati tutti. Concentriamoci un attimo. Allora, contro Riven che cazzo mi faccio? First item. La Trinity potrebbe essere un'ottima idea. Trinity Scarpe Armor. Ci sta. Ci sta, ci sta. Let al tempo? Ok. OP. Direi OP sto let al tempo. Fucking minions. Eds. 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 Avete visto che massacro l'ho tirato addosso? Massacrato proprio. Ok. Ci prendiamo questa. Vai Tommy, quando vuoi. Cioè, forse me l'hai scritto, aspetta. Parlo di IG tipo Plat. Su me è noia. Che è nel sapere di città. Allora, ascolta. Io Tommy te lo dico. Non ho intenzione di giocare su mio account Platino. Se quella è la condizione... Rifiuto. Non ho veramente voglia. La gente è tossica. Dà fastidio. Io e il Platino ormai... Per me è un lontano ricordo. Ok. Forse non troppo lontano, visto che ci ho fatto un game prima. Sono venute delle belle malattie. Allora ho detto, vabbè, basta. Bella Tommy. Grazie del Lost. Grazie mille. Tu lo sai, uno o due game troll volentieri. Ma al Platino c'è... Proprio basta. Mi ha rotto il cazzo. Cioè, a me va bene fare ranked, ma non in fine season. Perché la gente è così. E so stanco. Bella, Bonobbo. Raga, un big applauso per Bonobbo. Raga, ricordiamoci che sto come è iniziato con... La gente che vuole portarmi perché io ho rovinato... Lissandra mi ha detto che l'ho rovinato la lane. Ricordiamocelo. GG. Ha un ucciso Taric. Ha un ucciso un bar. Eeeh, attenzione! Ah, ma letta al tempo parte anche con una spell. Cazzo. Mbari! Guardala. No, Mbà! Mbà non lo fa! Mettiamo una bella ward qui. Eeeh! Eh no, eh! Così non andiamo proprio d'accordo. Ok. Easy. Buono così. Buono così. Ok. Riflessi. Avete visto? Ok. Domanda. Che facciamo con questa wave? Pushiamo. La pushiamo fast, non c'è il carretto. È fattibile, è fattibile. Ok. Back! E via così. Questo aumenta la route duration, sì. Ha grandi linee proprio. Però effettivamente lo aumenta. Allora, qua servono subito le scarpe armor. Per evitare di essere aperti. Ok. Lei si sta facendo Black Leaver. Sì. Black Leaver, Lissandra è morta. Purtroppo l'ho rovinato la lane. Di conseguenza è normale. Regà, l'ho rovinato la lane. Mi sono scoperto che ho fatto io in uno PC l'audio che è stato riprodotto in live. Ah, Mad, cosa è una gara? Ma Bonobo ti tira fuori di peggio, eh. Bonobo! Fatte rispettare da Mad! Fatte rispettare da sti immigrati qua! Dai, Riven, dove sei? Vabbè, Riven non c'è. Ah, vabbè, è botte, giustamente. Giusto. Andate a prendere una killing bot. Cod'è? Se è switchata col teleport? Questa è top per prendere la top, suppongo. Apparentemente io è proprio di sé. T1 easy. Bravo, Jed, bravo. Eh, cazzo. Yes. Blah! Blah! You don't follow me, no rage, man. Nice English. GG for the English. Vai, raga. Tempo di prendere un po' di attack speed. Andiamo ad aprire sta top lane, cazzo. Ma rifare la maratona? Gianculotti, in che senso rifaccio? Cioè, la faccio il 31. Il 31 faccio la maratona. English. Nice English. Azione, Mastery. Mmm, Mastery, Mastery, Mastery. Mastery, Mastery, Mastery. Eh, hai già. Ho capito. Ha già capito la ragazza. Non c'è manco bisogno che glielo spieghi, visto? Dove cazzo è andata? Sì, ma Striven non mi piace. Non sta in lane. Dove cazzo è? Sei lì? Dove è andata? Sì, ma che parola. Eh, era lì, ovviamente. GG. So che avrà qualcosa da ridire, però GG ha fatto la kill. Prendiamo tutto. Guardate, raga. Ma ok split pusher. Ma ok split pusher. E ho detto tutto. E ho detto tutto. Guardate qua. Guardate qua. Guardate qua. Guardate qua. Bella. GG premoka e split pusher, ragazzi. GG in chat, grazie. Mi serve. Hai attaccato Mastery. Hai attaccato Mastery. Vabbè. Buono. Buono, buono, buono. Poteva andare peggio, poteva andare anche meglio, però va bene così. Uh, so povero, bella, boxaro. Rip per la povertà. Ok. Non ho capito Gianculotto cosa voleva dire prima. Se di fare la maratona. Ragazzi, ripeto, come al solito, se volete sostenere il canale, cliccate sul tasto abbonati. Ed è entrata a far parte della Fierix Army. È entrata a far parte della Fierix Army, ragazzi. Diva la povertà, che schifo i poveri. Che schifo i poveri. Andiamo ad aprire questa, dai. Riven, sto venendo top. 1v1 me, anche se non ho la ulti. Non ho paura. Riven sì che ha paura, purtroppo. Lei ha paura. Raga, Riven non vuol fare un ovuno con me, ma vi rendete conto? Una Riven che rifiuta il 1v1. Cioè, ma dove siamo finite? Ma dove siamo finite? Non c'è più rispetto qua. Cioè, ci manca soltanto che gli asur dicano GG. Hai proprio alleati. Ci manca solo questo. Ma io guardo, non ho proprio parole. Il mondo sta cambiando, comunque. Il mondo sta proprio cambiando. Limote per i 500 chip, stiamo pensando a che fare. Forse quello non lo ammazzo. Più che altro non so dove è Riven, quindi... Con calma. Yes. 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 Madonna, i danni che gli ho fatto. Il Maokai matto. Il Maokai matto. Oh, ma che caso. Un emoto riposo a Fieri. Eh, se ce l'avessi, sì. Vai, vai. Eeeh, addirittura l'execution del calling. No, regà. L'execution del calling. Riven, ma che cazzo. Dai. 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 Ma che palle. Ma non viene nessuno qui. Che palle. Ah, santi Dio, santi Dio. Paperino, paperino. Oh. Regà. Oh, Gesù. Partito un po' di roba. Partito un po' di roba. Allora. Che ci prendiamo adesso? Che ci prendiamo adesso? Questa? Mmm. Eh, sto pensando. Se serve qualcosa per le one-way-one. Allora, noi ci faremo questo. Ecco. Easy. Easy. La Guinso. Ci sta la Guinso. Però preferisco farmi in un altro modo. Voglio andare di crit, io. Oh. Votrk. Mmm. Tutte belle idee. Belle idee, raga. Però la Phantom Dancer ce l'avete pensato? Leggi sopra, please. Ho altri due presunti stick. Rimando. Vai, Maddo. Tu manda. Dobbiamo trovare la nuova emote. Stavo pensando ad un Fieric Pride, effettivamente. Però. Però ho poco a D. Effettivamente non è proprio la migliore delle build, così. Meno che... Oddio, le cragnate di crit. Oddio, le cragnate. Avete visto le testate che tira? Che c'è? Paura. Eh? Ma Mastry non c'è. Oh, non vuol fare l'1v1 la ragazza. Guardate. Ma che Riven sei! Cos'è? Sto aspettando che arrivino i suoi amici, poverini. Guardali, mi fate pena. Mi fate pena, ragazzi. Sì. Eh! Cosa fa? Pazzo. Pazzalito. Sorry, my bad. Eh, meno quello. Raga, si è lanciato tipo per farsi esplodere. Alla wakbar, proprio. Alla wakbar! Alla wakbar! Madonna, Riven che pa... Madonna, Riven che pa... Sì, vabbè, ma sta Riven qua è veramente una merda. Cioè, merita di perdere. Cioè, non fa un cazzo di 1v1 contro Maokai. Con sto coso qua. Guardate che build c'ha. Madonna, santa. Non merita proprio un... Meriti solo di perdere, Riven. Meriti solo di perdere. Non sto scherzando. Meriti solo di perdere. Non hai diritti. C'ha pure le testate di Maokai. La capisco, però... Bella, Nameless. Eh, Nameless è una brutta partita questa. Sono beccato... Cioè, io sono 3-3-2, ma Riven 5-3-1 così... Ma non mi ingaggia, non fa nulla. Guardatela! Paura del cespuglio. Sa che potrei essere lì, quindi non viene. Guardatela! Non hai guardato qua. Se hai guardato qua, fai schifo. Se hai guardato qua, sei una merda vivente proprio. Hai guardato. Non starebbe così... Regà, non starebbe così indietro se non fosse guardato. Che schifo, Riven. Che schifo sta Riven. Vabbè, Ahmed. Fare la Predable vuol dire prendere una remote un po' osè e metterci davanti la bandiera... Metterci la bandiera arcobaleno. Dei finocchietti. Io non ho parole comunque. Adesso prendo tutto per togliere le ward. Che vergogna. Che vergogna. Ciao, Eternal. Quello è ma ok a dire. Ragazzi, ma com'è possibile? È l'u... Guardali, aiuto! Questi sono i Mastery, le Riven del 2018, comunque. Questi sono i Mastery, le Riven del 2018, ragazzi. Non so se è chiara la cosa. Cioè, giocano così i Mastery, le Riven del 2018. Bella, Jake. Si ribecca. Che schifo, raga. Che fate. Che schifo. Cioè, sta partita non è bella. Cioè, me l'hanno proprio rvinata. Ma non dico di venire a suicidarsi. Cioè, dico... Di ingaggiarmi. Sono un cazzo di Maokai. Non ho vita. Non ho nulla. Cioè, boh... Ma io non lo so. Vabbè. Non ho parole, raga, comunque. Mi dispiace, ma non ho parole. Un albero che critta. Oh, lui sì che è un vero uomo. E grazie che è un vero uomo. È Tarika. Mi sorprenderai se non fosse così. Avete visto, raga, che Tarika non ci ha pensato a volte a ingaggiare? Si vede subito che è un vero uomo e che invece è una pussa. Si vede subito. Tarika è un vero uomo. Riven, fuck caro. Axaroth, bella bro, come sta? È un pezzo che non viene in live. Mi faccio... Mi faccio l'infinite adesso. Voglio fare i danni, sti cazzo, se crepo. Voglio fare proprio i big damage. Cioè, vi rendete conto che io non fighto da non so quanto? Ma davvero non l'ho preso. Pensavate che fossi morto, eh? E invece... Tarik! Vieni a fare l'uomo, Tarik! Pensavano che io fossi forte. Che cazzo è stato, eh? Sì, comunque, raga, non ho veramente parole per sta gente. Cioè, non ingaggio, non ho fatto un cazzo proprio. Cioè, la loro vita è... Funzecchiera da lontano e basta. Non ho parole. Non ho parole, davvero. Che gente di merda. Ma cosa giocate a fare, League of Legends? Dio, mutanda. Senti, non ti fa... Vabbè, ti voglio bene. Grazie, Axaroth, scusami davvero, però lo sai. Devi spammare... Devi essere... Devi avere culo di salutarmi quando vedo la chat. Perché altrimenti... Eh, lo sai anche te. Oh! Ora sì che i danni sono aumentati. Sono un po' più seri i danni. Sì, ma io voglio shottare qualcuno. Cioè, non è possibile che veramente le mie azioni siano ridotte all'osso. Perché nessuno viene a fare... Nessuno viene a fare un minimo fight. Rhydes! Guardali! Pusciano un pelo e scappano tutti insieme. Fieric Pride ci vorrebbe in sto caso. Realmente un Fieric Pride ci vorrebbe. Che siete, delle fighette? Eh? Cioè, guarda, perché a loro le date le kill a me? No, perché non venite qua? Boh. Boh. Davvero, io non ho parole comunque. Raga, spam di K Pride in chat. Per far capire... Di che tendenza sono sti qua. Oh, attenzione. Rhydes è tornato in lane. Cioè, è tornato back. Guarda, tutti insieme o... O tutti o niente. Non ce l'avevi in mezzo. C'è un bel baron qua, eh. Se voleste. Comunque, però, ok, è easy. Non ha bisogno delle warb. C'ha le pigne. Cioè, se proprio così prendevo il Tia, ma te splittavo tutto il tempo. Questo è Free Baron. Perché questa è qua? Non lo sapevo mai. Non lo sapevo mai. Lag. Fa veramente schifo, questo. Vai, vai, vai. Easy. Siete penosi a giocare. Penosi. Proprio il pene. Grazie, Jonathan. Grazie mille, bro. Chi c'è qua dentro? Eh, non c'è nessuno. Penosi. Penosi. Siete penosi, cazzo. Vabbè, ma Stry, 1v1. Dai, qualcuno. Qualcuno che venga a fare 1v1 con Maokai. Ci hanno paura di Maokai, ragazzi. Ma ci rendiamo conto. Peneosi. Just FF, boy, it's over. Mamma mia. Better DC wins. Ma che disrespect. Guardate che disrespect. Allora, ma sono veramente peneosi. Questi. Boh, adesso le dia. Più che altro ci ho letto al tempo. Ma non riesco ad usarlo. Ma Stry, 1v1 se sei un uomo. 1v1, però, se sei un uomo. Cazzo. Non ci sono più gli uomini di una volta, comunque. È proprio vero. È proprio vero, cazzo. Non ci sono più gli uomini di una volta. Eh! Almeno ho dimostrato di essere un uomo. Però Rip. Master Yi è troppo Pino. 1v1. Vabbè. Niente. Sta partita, raga, ha fatto cacare. Ha fatto veramente merda sta partita. Perché Riven non ha fatto un cazzo. Comunque c'è la... L'avessi preso io la Gwinson. Magari cambiamo un pochino. Rip. Potrebbe entrare c'è sei uomini adulti. La vagina più grande del regno animale o poi quella del team avversario di Fieric? Eh, lo so che fanno male al cuore, però... Cioè, io voglio fare... Io voglio fight a Riven. Cioè, guardate, Riven non ha un cazzo. Però non ho mai potuto fightare la Riven. Non so se ci rendiamo conto. Mai potuto fightare la Riven. Mai. È stata imbarazzante. I giornal top lane è stata imbarazzante. Anche Rhyze. C'è qualcuno che non sia Master Yi. Perché, non so, l'1v1 con Master Yi. Ok, ma forse quello lì... Diciamo, punto troppo in alto. Però il resto... Eh, non chiedo molto l'1v1 con Riven. Cioè, Riven è nata per l'1v1. Dove sono? Dove sono i nemici? Ma vedete che scappano. Poi è una mia impressione. Che testate tira, guardate qua. Miss Fortune, vieni a pocchiarmi. Dai, Miss Fortune. Boom! 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 Ma cregnate! Mori, troia! Finalmente sono riuscito ad ammazzare qualcuno. Guardalo quanto è cattivo sto Maokai. Madonna, testate proprio. Attestate l'ho presa, sta puttana. Spammate un po' di Fieric qualcosa in chat. Quel che vi pare. Spammate e basta. Spammate proprio. Ta! 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 Ma io distruggo tutto qui. Ma io distruggo tutto qui. Donna, le testate proprio l'ho fatta esplodere. Allà è grande. Oh yes! Letta il tempo. Oddio, un'altra kill. Oddio, un'altra kill. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Victory! Bella Giulio, vento, come state ragazzi? Oh mio Dio. Madonna che schifo. Che branco di... Ma davvero? Ma è brutto giocare con sta gente. Cioè, bu... Quanto sono imbar... Sta Riven è imbarazzante. Riven è compl... È proprio imbarazzante. Imbarazzante. Non ho fatto danni, non l'ho fightato. Beh, lascio Ghias. Adatto.